Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Io sono Flinghi108 e oggi siamo qua in uno dei momenti più belli di FIFA Siamo qua perchè sono usciti i team of the season Ragazzi sono usciti non tutti ma quelli principali E allora, eccoli qua tutti quelli che sono usciti per ora C'è Burman, Aldelby, Novertonghen, Carvajal, Fazio, Pereira, Sanson E tanti altri, io ragazzi abbiamo 3600 FIFA Points Vabbè anche pazzini vabbè Epico, Torreira, un sacco di roba c'è Abbiamo 3600 FIFA Points per andare a cercare di trovare uno di questi Andiamo a vedere un po' che pacchetti ci sono Spero quelli da 15.000 Oro? Sì ci sono quelli da 15.300, ammazzate Un pacchetto di 100 giocatori, oro e argento Ti includo i più giocatori, sei oro, sei argento Di cui sei... no, no, mai nella vita Però devi ripartire subito con un pacchetto da 7.500 Ho flashato il walkout, ho flashato il walkout Invece non esce niente Andiamo con un pack, un altro pack da 7.500 Tendo da aprire anche quelli da 15.000 Niente, che schifo Veramente Forse l'ingard Qualcosa vuol valere Non vale niente figlio mio Scartiamo tutto Ora iniziamo a fare le cose serie signori Pack da 15.000 Non troviamo niente Che è? Mercado Mariano Ma che Mercado? Infatti è argentino Mercado L'ignoranza di flinchino i giocatori Però qua è buono Che danno un sacco di consumabili Intanto vediamo un po' Se tipo regista vale qualcosa Perché qua devo fare i crediti Non costa niente regista No, con un pacchetto da 7.500 Saranno molto veloci ma Che... no, non li apro più Fanno cagare, veramente Ah, CCT dovrebbe valere qualcosa 1.100 Se lo compro Ma ce lo metto proprio così a 1.300 Così Me lo dovrebbero comprare Andiamo con un altro pack Da 15.000 Se esce walkout Io ne vado Infatti non esce walkout Qua credo che i tozzi Sono tutti walkout Perché hanno quasi tutti un overroll Abbastanza alto Tanto qua troviamo Shoah Mamma mia E' lo schifo Ah, forse McGidi Forse McGidi Forse McGidi Forse McGidi Tutto là vengo roba No Ma McGidi Mi ricordo che era Eh, era quello Il co5 di skill Questo qua Regà me lo tengo Forse Shoah Ah, è l'Andrea Liga Santander Certo, vabbè Non costa niente Sì, andiamo sempre avanti Pacchetto da 7.530 Dai Eh, no È lag di connessione Questo qua Non è lag per un tozzo Non guarda anche a me Un info Non è che mi Che mi dà fastidio, eh Va benissimo Contratti Regista ancora Ma che è Mi tormenta Cioè, raga Mi tormenta Regista comunque Non è possibile Qua no Questo qua Non valeva niente Scusate Mi ho sbagliato Sono Flinky Ignorante 2.0 Andiamo con un altro pack Da 15 Niente Rada Niente Lo schifo Tutto tale Chi è? So È so questo qua Cioè Con tutte le volte Che l'ho trovato Infatti Ora che andiamo Ad aprire Forse No Non mi vado ad aprire Quello della 4% Questo qua Dovrebbe essere Già abbastanza Un po' più forte Un po' più E E No Fa cagare Scusate Fa cagare Non è forte Per niente Magari vale No 700 Spero se lo comprano Qua Mille crediti Grazie Sport Grazie mille Sport E No Questi qua Ma Ah Aspetta Eh Magari No Magno di no Andiamoci a aprire Azzard Azzard Ti imploro Fammi trovare Loro Ma che Ah C'è un oro Raro Mi sa dentro C'è l'argento Raro Scusate Ho sbagliato Questo qua Col naso Col naso Questo qua Mamma mia Che schifo Chi è Non sono zio Questo qua Guarda Questo qua Non sono zio T'ho felice A spacchettare Belli questi qua Qua io ho fatto Un sacco di crediti Questo dovrebbe valere Questo dovrebbe No Allora Sto Andando Qua sbagliato Con un pack Da 7500 Prenti Niente Non ci credo Anche Nemmeno un if Regà Non mi è successo Che non trova Niente così Niente È scarto Però Stiamo a fare i crediti Andiamo con un pack Da 11500 Niente Chi è Ma chi è Il cameni Questo qua Ci sono rimasti 10 euro Signori Non credo Mi trovo All'altra Stacca Cacciatore Cacciatore Vale Cacciatore Vale Shish Perché cacciatore Non può Non valere 3000 3000 La voglia Se vale Aspetta 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 4000 La voglia La voglia 4.3 lo metto Tutta la vita Questo Se lo dovrebbero Comprare Cacciatore Almeno Non chiedo Tanto Un informo Giusto Per caricare Per caricare Questo video Savic Aspetta Attenzione Savic 3.6 Avremo Un altro Di questi Oh Rega Niente Niente Lo schifo Lo schifo 3 Avremo Uno Di questi Se può Fa giusto Un attimo I conti Niente Niente Guarda Non voglio Nemmeno Vedere Chi è Uh Mertesager Guarda 83 Scusatemi 1.3 Però Il giocatore Che va Non l'abbiamo Trovati Cioè 1.2 Li trovo 1.2 Perché lo voglio Vendere Subito Mertesager Finalizzatore Ci apriamo Ci apriamo Ci apriamo L'ultimo pack Da 300 No Prima ci apriamo L'ultimo pack Da 1.5 Fantasy E non li guardo Anzi Questo lo guardo E l'ultimo Non lo guardo Qua Non troviamo Niente Vabbè Ormai È così È così la vita Non troviamo Niente Giusto il contratto La forma fisica Tiè Faccio così Non ho parole Se voi Avete le parole Per descrivere Una cosa del genere Ditemelo Cioè Regà Nemmeno un if Un toz Un workout Su 30 euro Su 30 euro Mo Se tipo Trovo un toz Mo Se tipo Trovo un toz Perché Sul mercato Me lo compro Cioè Non lo so Non lo so Mo Vediamo Signori Abbiamo comprato Il grande fazio Ne ho un po' Ora quanto si rivende Perché io qua Ci vorrei fare Molta compra vendita Io l'ho comprato A 26.000 Se lo metto Tipo A A 28.000 Ti è Che Ti quanto Ti 5 Ti 6 Allora intanto Lo mando al club Poi Andiamoci Apre l'ultimo pacchetto Veramente Easy 10.000 Crediti Niente Regà Niente 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 Oh regà Lo schifo Dove Magari Walkout Non Walkot Comunque La sfiga Cioè Dai Scartammo il giocatore Aspettate Non lo sta Giocatore Scartiamo Scartiamo Fazio No Che dicevamo Meghidi Vabbè Scartiamo Sti cavoli Non ci fa Liviamo Facciamo Prendiamo Un bello Staff Un allenatore Da lui Sto pelato Qua Dai 15.000 Crediti Precisi Questo qua Ragazzi L'ultimo Pacchetto Di questo Pacco Opening Che poi Possiamo Anche Staccare Abbiamo Ho C'è Abbiamo Aperto Molti Oppure Avremo Due Da 7500 Non lo So Avremo C'è Uno Di Questi Va Tua nonna Io Nel Mio Che Galleggione Veramente Vabbè E poi Possiamo Chiudere Andiamo Al posto Di questo Bronzone Qua Andiamo A prendere Il mio Fazio 88 Signori Che Un overhaul Mamma mia Vabbè Ragazzi Direi Che Per questo Video Può Essere Tutto Il mio Video Tra Il E Noi Vediamo Alla Prossima Bella Ragazzi Ciao